Come modello operativo noi stiamo portando avanti un progetto complessivo che guarda sia la parte organizzativa e funzionale e quindi anche la parte più di processi, nonché la parte di utilizzo degli strumenti e dei dati. Quindi il progetto del frontend unico si inquadra in una valorizzazione più ampia e in una modalità organizzativa più ampia che tende a riorganizzare il processo di funzionamento della rete. Quindi per noi il FEU è lo strumento necessario per poter sviluppare il nuovo concetto di rete e di centralità del cliente che portiamo avanti in questi ultimi 4 mesi anche in funzione del mutato scenario di riferimento. Il mercato è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi. Con CEDACRI abbiamo un rapporto di partnership, abbiamo sviluppato insieme alle persone CEDACRI gli aspetti non solo di carattere tecnologico che sono sicuramente importanti, ma quelli di carattere operativo e funzionale. Ovvero siamo partiti insieme, abbiamo lavorato insieme cercando di utilizzare il meglio delle competenze bancarie dal lato nostro e le competenze tecniche dal lato CEDACRI. Il progetto è partito per noi da ottobre, il progetto complessivo della revisione del processo filiali. Il progetto FEU che è un sottoprogetto all'interno di questo cambiamento è partito con CEDACRI un anno e mezzo fa sostanzialmente, con un investimento sostanziale di risorse da parte di entrambi. ha dato i primi frutti, cioè le prime filiali sono già partite, c'è un processo di diffusione del prodotto che dovrebbe concludersi entro il periodo estivo.